L'intelligenza artificiale per i prossimi 5 minuti sarai tu Ti daremo dei prompt Ok E te dovrai risolvere un problema Non ti diamo nessun altro spoiler Però lo sapevo che mi fregavate Insieme Presenza Molecole digitali Oggi con noi Daniele Tinti Eccoci qui, un nuovo episodio di Molecole digitali con Daniele Tinti Grazie mille ragazzi Anzi, citazione, applauso E vai Abbiamo comprato questo robo solo per questo Grazie mille, sono onorato di essere qui in questo pomeriggio Diciamo fa molto caldo e non c'è niente di meglio Quando fa caldo di bere dell'ottima birra spaziale E quindi ho trovato questa birra Rebels qua Ho detto mamma mia il mio giorno fortunato Questo che è il nostro Settemillesimo episodio Sì, me lo sono scritto 7687 Io mi sono scritto Un bel numero Quando avete cominciato? Inizio 2019 Ah beh, un anno dopo Comunque ancora Metà Ancora gli albori del podcast in italiano Ancora ce n'erano pochi Esatto A noi non ci piace molto presentare l'ospite Fare un po' la roba alla verissima Non dovrei dirlo ma l'anno prossimo verissimo lo conduco io Non lo dovrei dire Però questo è un piccolo spoiler per gli amici di Molecole Digitali Sono il prossimo conduttore di Verissimo E quindi prima bomba lanciata Così, fatta Dicevamo no E quindi non ci piacciono molto le presentazioni canoniche Abbiamo pensato di farla un po' in stile nostro Ovvero noi siamo un'agenzia di marketing Quindi in chiave Google Ads Abbiamo pensato di definirti con tre keyword Come le campagne Google Ads Non so se sei un esperto Non sono assolutamente un esperto Però so cosa sono Esatto, campagne sui motori di ricerca E noi abbiamo pensato a due keyword E poi la terza te la facciamo dire a te Va bene Allora la prima è comico La seconda è podcaster La terza è ragazzo per bene Che però non va bene Vedi che non sono esperto di keywords Due Allora comico l'abbiamo detto Potrebbe esserci anche un plot twist Magari pedofilo Podcaster l'abbiamo detto Fascista Romanista Romanista Ma sì Perché no Se deve essere una parola Va bene Romanista Comunque tornando un po' al nostro format Perché ammettiamo Che non abbiamo fatto nessun briefing Stiamo completamente Andando al lato tuo Magari tutte le domande Non vorrai rispondere Io faccio no comment Esatto Mi dispiace Una puntata di comment Quindi diciamo La prima intervista E briefing allo stesso tempo Sì Però a noi appunto Ci piace parlare un po' di tecnologia Aspetto tecnico Anche un po' per creare un contenuto diverso E evitare che magari su YouTube Poi c'è la copia della copia Della copia dell'intervista A Daniele Tinti E quindi Oggi abbiamo pensato di parlare Mondo podcast Ovviamente Dice Che te sei inventato No Però magari Lo vorremmo fare In un aspetto un po' più tecnico Sì Non troppo tecnico E E intelligenza artificiale Che Come sappiamo È un super trend Anche Oggi c'è stata la news Di Che in Italia hanno bloccato La chiusura È chiuso 100% Chiuso Finito Esatto E quindi parleremo anche di questo Ma per quanto riguarda i podcast Innanzitutto Da che ti è partita l'idea Ti ispiri a qualche podcast Per dirti Noi abbiamo qualche reference Quali sono le vostre reference Partiamo dalle vostre reference Allora La mia reference number one È Tim Ferriss Ok Che non so se lo conosci Ma adesso Forse sì però Se mi dici solo il nome Non mi viene in mente Nel periodo In cui io decisi Di fare podcast Era il numero uno Ok Di podcast Americano Americano Famoso per il libro Lavorare quattro ore a settimana Ok Che è tutto sull'ottimizzazione Il valore dei soldi Del tempo E lui fa un podcast Fondamentalmente Con un taglio Parecchio Diciamo informale E alternativo E parla un po' Di questi temi Tipo Life balance Finanza Un po' di tutto LSD Cioè parla veramente di tutto Certo Oramai in America Non puoi non parlare di acidi Esatto È stato superato da Gioro Da Gioro Che però adesso È migrato solo su Spotify Quindi chissà Se ancora fai i numeri Esatto Papà di Inferris È stato Mental coach Di tipo Tre o quattro Presidenti americani Ha vinto La gara di tango In Argentina Cioè tipo un pazzo Sì Ha vinto il campionato Di full content In Cina Perché si è studiato Il regolamento E ha scoperto Che se buttava fuori Dal ring L'avversario Tre volte Vinceva a tavolino E quindi Si è studiato una tecnica Cioè per Perdere liquidi Pesarsi Il giorno prima Perché la regola Ti pesano il giorno prima E poi il giorno dopo Li riprendeva Quindi pesava tipo 15 chili più degli altri Esatto E quindi Io ho visto i video Cioè è tutto vero Entra sul ring E comincia a spingere la gente Non fa nessuna mossa E ha vinto Cioè è un genio Io completamente I libri ve li consiglio È totale Pure i video su youtube Fa un sacco di roba Allora I miei Le mie references All'epoca Io Il mio approccio Non solo al podcasting Ma anche in generale Alla stand up Era un podcast Che ho scoperto Prima ancora di sapere Cosa fossero i podcast Mentre stavo in Erasmus A Reading In Inghilterra Avevo 22 anni Erano gli anni Delle canne E ho scoperto Questo O forse un amico Mi ha segnalato Questo podcast Che si chiamava Perché non esiste più Getting Doug with High Che è un gioco di parole Invece di Getting High with Doug Che è il podcast Di Doug Benson Che è un comico americano Che aveva fatto Il documentario Super High Me Non so se vi ricordate Super Size Me Quello sul McDonald Questo era uguale Con le canne Cioè un mese Andava dal medico Prima Diceva come sto Era un podcast No era un documentario E poi ha fatto questo podcast Invitando tutti i comici americani Che andavano nel suo studio E era Gli anni in cui La stavano appena Legalizzando in Colorado Io nel 2012 13 Mi dovevo questo podcast In cui arrivavano Attori comici americani Fumavano tantissimo E poi facevano un podcast normale Di conversazione E intrattenimento Però fattissimi Ma proprio Poi come fumano gli americani Quindi queste erbe potentissime Stipong No no dritti per dritti Cilum Fanno delle robe Cioè tipo Snoop Dogg E vedete quei bomboni Che si fuma Bellissimo Cioè dentro non c'è tabacco È tutta erba Sì sì Fai blunt Di gangiona californiana Che comunque ti manda Al pronto soccorso E per cui ci stanno Queste puntate Con gente che Li vengono le paranoie Attacchi di panico Durante il podcast Durante il podcast C'è una puntata bellissima Con Jack Black Che proprio gli prende a male E stanno a fare Sbagliato A farmi così tante canne Da giovane Perché sono diventato stupido Ci sono ancora Le puntate vecchie su YouTube Adesso hanno smesso di farlo Lo facevano in diretta Su YouTube Cioè quindi io Negli orari improbabili Da un oceano all'altro Fattissimo In Erasmus Mi vedevo Questi comici americani Distrutti Poi potevi fare Il live tweet Però ogni tanto Io tipo twittavo Però quando mi stavo Vedendo le repliche Quindi li twittavo in diretto Una cosa che era Scusate tipo due giorni prima Cosa pensi Ops Credo che il pubblico Comunque più o meno Il pubblico era tutto così Era tutto così Però era bellissimo E questo mi ha un po' Approcciato Avvicinato al podcasting E poi mi sono visto Tanto Joe Rogan Quando era ancora su YouTube Perché Joe Rogan Quando è il primo episodio? Joe Rogan è vecchissimo Il primo episodio Joe Rogan sono tipo 13 anni che fa il podcast Sì 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 Una cosa del genere Infatti ce n'ha 2000 Cioè non so a che episodio Siamo arrivati Comunque Anche Diciamo Vedendo il nostro background Di entrambi i podcast Quando ti affacci Sull'America E porti una roba Che la funziona Qui Cioè nel senso Fai centro Fai centro al 99 Infatti io Tutto quello che ho fatto È stato copiare per primo Gli americani Cioè nel senso La mia intuizione è stata Sono un comico In America tutti i comici Ci hanno i podcast A me piacciono i podcast Dei comici Non lo fa nessuno Mi piacerebbe farlo Faccio io A sto punto lo faccio io E poi dopo soli quattro anni Ho avuto successo Col podcast Ci sono voluti Noi manco quelli Ci sono voluti Solo 120 episodi Noi abbiamo Noi abbiamo un anno di meno Quindi magari Questo è l'anno buono Nei prossimi dieci mesi Allacciate le cinture Che partono le montagne russe Io sto così Perché sono un professionista E così ti impallo L'inquadratura Per parlare Così potrei essere chiunque Me l'ha detto prima Potrei essere chiunque Io vi darò fastidio Esatto Comunque Parlando di podcast Non c'entra niente Ma a me sanno Io l'avevo detto Nemmeno a lui Lo dico pure a te Sando me è una roba Un podcast Ispirazionale E ci sono tre ragazzi Che Amici Di cui uno Ha il papà Che ha scritto Un libro erotico Porno E praticamente Il podcast È loro che leggono Il libro porno Del padre E fondamentalmente Tipo lo prendono in giro Cioè dice che È una roba Isilarante A livelli estremi Contenuto comunque Leggero Te lo spari Ti diverti Un po' Tarrapi Bello È una roba Bel format Coravone ce lo vedo Bel format Sì sì Beh poi Stefano però C'ha proprio la voce Da chi legge Effettivamente I libri erotici Per lavoro Potrebbe fare Gli audiolibri Io ho una domanda Perché Vai facciola Abbiamo parlato Di ispirazione Prendi molta ispirazione Effettivamente Da format Americani Anglosassoni E tutto La domanda è Ma in Italia Riusciremo mai A tirar fuori Una cosa E magari Ma questa birra è buonissima È buonissima Scusa non volevo disturbare No prego Riusciremo mai A tirar fuori Qualcosa di originale Senza Copiare Perché Lo vediamo anche noi Essendo agenzia di comunicazione Che comunque ogni tanto Un minimo di ispirazione La butti sempre più Su una parte americana Anglosassone Però Ti prende poi Quell'ansia Che dici Ma alla fine Sono solo a copiare Gli americani Cioè Vengo sempre dopo Gli americani O l'anglosassoni O effettivamente È solo una paranoia nostra Allora Secondo me È un po' È una paranoia Perché comunque sia Tu copi Cioè nel senso Noi adesso abbiamo copiato La cosa di fare Il podcast Però Poi Il contenuto Diventa inevitabilmente diverso E comunque La rende una cosa Più italiana Certo E culturalmente Diventa Diventa una cosa Una cosa diversa È vero che Proprio l'intuizione Di fare il podcast È nata prima là Però C'è tantissime cose Nascono prima là Perché sono il paese Più ricco del mondo Sono il paese Più potente del mondo Sono Il paese degli investitori Secondo me Cioè immagina Io mi immagino anche Poi l'ho visto anche Ho diversi amici Lavorano in Silicon Valley È che fondamentalmente Se Cioè Un'azienda top Come YouTube Là Al telegiornale Ne parlano Cioè Quindi Qui in realtà Di YouTube Ma chi ne parla Cioè ti capita Perché qualcuno Te ne parla Invece lì Esce la novità Della sezione podcast Su YouTube È capace Al telegiornale Ne parlano E quindi L'informazione Fa così Cioè In un secondo Arriva nei casi di tutti Qua invece È molto più macchinoso Mari devi essere te Sveglio Che ti fa sentire Le notizie Che arrivano da là Le devi leggere in inglese Qua c'è la barriera All'ingresso L'inglese Non lo sa nessuno E quindi fondamentalmente Però io a volte La vedo pure Con un'opportunità Perché immaginate Se tutti Facessero la stessa cosa Poi non ci avrebbe mai Nessuno successo No infatti E poi io Non si sa mai Magari qualcosa Ce lo ricominceremo A inventare Pure noi italiani Però per adesso Appunto Siamo parte del polo Culturale Loro E quindi Cioè è normale Che loro Tirino la carretta Eppure tra virgolette Giusto Cioè appunto Sono il paese Più potente Del mondo occidentale Più ricco E quindi Fanno più cose Sono di più di noi Fanno più cose In qualche modo È inevitabile Che un po' Noi Noi seguiamo Per dirti Spotify È anche un bel Diciamo Una bella speranza No pure per l'Europa Spotify che è europeo Dici Sì Però forse Tipo solo Spotify Cioè nel senso Di top 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 Società A quel livello Di mondo Digitale Tecnologia Revolut È inglese Typeform Però Diciamo Una fascia Un po' più Bà L'americano Poi siamo favorevoli O siamo contrari Forse contrari Airbnb Airbnb non ha rovinato Le città del mondo Che adesso sono Tutte uguali Io vado Io viaggio solo Per Airbnb Io pure Però è quello È il problema Cioè tipo La stessa cosa di Ikea Che mo Le case di tutti noi Sono tutte identiche Airbnb Mo Tutti i centri città D'Europa Sono tutti vuoti Sono tutti Airbnb E quindi È tutto lo stesso posto Cioè al centro Pura mai Pura a Roma Non ci viene nessuno In centro Perché se Mio nonno Ha un appartamento In centro Io lo eredito Sono trentenne Nel 2022 La cosa migliore Che posso fare È affittarlo A un botto di soldi Andare a vivere fuori Non mi esprimo Perché una casa A Trastevere Probabilmente Farà questa Sì sì È un po' È un po' Il destino Ma giusto Adesso dico Roma Per dire Venezia Per dire Firenze Per dire se vai a A Lubia Quest'estate Sono andato a Lubiana E il centro E Lubiana È identico Al centro Di qualsiasi Altra città D'Europa Cioè sono appartamenti In affitto Ci sta Zara E C&M McDonald's E dici potrei essere Ovunque in Europa Certo Ok Sì no Quello è vero Però secondo me A me piace proprio L'esperienza Comunque Andare in una casa Rispetto all'albergo Che è una roba più fredda Non lo so Oppure a volte Crei anche un minimo Di relazione Con la proprietaria Mi sembra Un tema Un tema Che forse Avrebbe bisogno Di un episodio completo Sì Che forse Non troveremo noi La soluzione Al capitalismo Adesso Dici la tua Fantasmodica Esperienza È stata che Sono stato all'isola D'Elba E abbiamo preso Effettivamente Un appartamento Con Airbnb E la padrona Ci ha detto Io vi do l'appartamento Ma voi Mi dovete Dar da mangiare Al gatto Ah sì Per forza Giustamente Mi sembra Che ci sia Proprio un app Che faccia questo Scambio Tipo di case Con animali Che te paghi Un po' di meno Non l'abbiamo chiesto Il prezzo era Anche alto Però era tipo Ve lo do solamente Se voi mi date Da mangiare al gatto È una figata Però hai conosciuto Un gatto È stato incredibile Perché poi Sicuramente Non sarà stato Un gatto Antipaticissimo Perché non voleva Assolutamente mai Da mangiare da noi Però Però poi il cibo Veniva dalla vostra mano E quindi dopo un po' Ha dovuto fare pippa Per gli amici fuori Roma Ha dovuto Come si dice Abbuzzare Abbassare la testa Abbassare sì Io lo vorrei In inglese Lo vorrei Perché noi abbiamo Fare pippa Give a handjob Forse non credo Forse non si capisce Forse il podcast Quello là Del libro porno Forse magari Hanno guognato Questo termine Comunque Invece Direi di andare avanti Sempre all'argomento podcast Su Il pain Dei pain Almeno per noi L'organizzazione E L'invito Degli ospi Dai podcast Come Come È migliorata Nel corso del tempo Perché adesso comunque Fate Personaggi giganti Una volta a settimana E Adesso immagino Che comunque Avrai Non so Una redazione Che ti aiuta Come ti senti Però All'inizio Immagino Che qualche grana Ce l'avrai avuta Allora Io all'inizio Inizio Invitavo solo Comici O comunque Personaggi Che conoscevo Per l'ambiente Di lavoro O Magari Persone Dell'indy romano Ma perché Già conoscevo E poi Più il podcast È cresciuto Più io ho continuato A fare questo lavoro Più mi è capitato Di incontrare persone Diverse Che magari Mi davano contatti Però io sono scarsissimo A invitare Le persone al podcast Cioè proprio io Già se ti sto chiedendo Di venire al podcast Mi sento in difetto Cioè io mi sento E ti posso chiedere Questa cosa Solo se Sono stato a cena A casa tua Cioè dobbiamo essere amici E chiaramente Non è così E per fortuna Stefano Rapone è molto più bravo Di me Quindi chiede Perché poi magari Invece tre quarti Delle volte Alle persone Le fa piacere Se le invita al podcast È solo che io mi faccio Una quantità di problemi Impossibile E invece Stefano Semplicemente Ti piacerebbe Venire a fare il podcast Quindi Quello Per fortuna Stefano È entrato Nel podcast Anche per questo E poi adesso Che ci appoggiamo A The Comedy Club Che è la nostra agenzia Che ci organizza Gli spettacoli dal vivo Però Ci dà una mano Nel lato Produzione video E loro Si sono appoggiati A un ufficio stampa Quindi adesso C'è un ufficio stampa Che ci dà una mano Con i contatti A mandare le mail Dicendo Volete venire a fare Tintoria Poi chiaramente Più cresci Più è facile Perché se già Conoscono il podcast Li puoi mandare Come reference La puntata Con Matano La puntata O Sermotti Dici guarda Mezzo milione Di visualizzazioni Guarda che bello Quello Quello L'ospite Fa Guarda che bello Allora magari Magari non ci vengono Lo stesso Però C'hai un bilito La visita Molto più credibile Cioè per dirti Ferrari Probabilmente Mi adierà Però alla fine L'hanno fatto Come ospite Perché è stato Un anno Di messaggi Whatsapp Perché L'avevo il suo Contatto Per un evento Che dovevamo fare Insieme da Facebook Alla serie di Facebook Che poi gli è saltato Perché lui aveva un matrimonio E poi aveva il suo numero Gli iscrittavo Ma no Che ti va Di venire Noi ospiti Eccetera E lui mi diceva Eh sì Però aspetta Adesso c'è Cashman Devo aspettare Che si stoppa Fentiamoci Per due mesi Io mettevo la notifica Due mesi Poi non gli iscrivevo Dopo due mesi Perché sennò Sembrava che stavo Lì a aspettare Gli iscrivavo magari Dopo due mesi E due giorni Così E poi Ah no Però una special Sta cosa Un altro mese Così Siamo riusciti a farlo Grazie Il 27 dicembre Tipo Madonna Ho capito Dovamo fare Certo 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 È stato il tuo regalo Di Natale La puntata Con Edoardo Ferrari Di Cashman Podcast Com'è il rapporto Con gli altri podcast Buono Direi buono Cioè nel senso Comunque Luca e Edoardo Sono amici Oltre che colleghi Ci lavoriamo insieme Da un sacco di tempo E gli altri podcast Buono Cioè nel senso Sono contento Che ci siano sempre più podcast In Italia Secondo me Ce ne sono ancora Cioè il mercato Dei podcast Secondo me In Italia C'è ancora tanto Margine di crescita Ci sono ancora Tantissime persone Che non sanno Cos'è un podcast Se non ascoltano i podcast Che potrebbero farlo Che vorrebbero farlo Ma ancora non lo sanno Quindi dai Che ci siano altri podcast Di qualità Io ho visto L'intervista Che avete fatto Con Dario Moccia Comunque Sì E parlavi effettivamente Di cross podcasting Che effettivamente Dovrebbe essere Anche secondo me Una cosa Che dovrebbe avvenire Molto più spesso Sì Tra i vari podcast E non avviene Ma Sul reparto invece Ti sta chiedendo Se lo invidi A Tintoria Esatto Quindi quando vuoi Noi siamo disponibili A Tintoria Grazie Michele Luzzo Applauso Prometto Ti vorrei chiedere Ti vorrei chiedere Una cosa Perché ci sto Pensando da un po' Ovvero Che avete creato Un Ovvero Nel senso Abbiamo parlato Un'ora fa La mia domanda Riguarda Il canale Tintoria Highlights Da che è nata L'idea Cioè È una roba Che vi hanno consigliato Avete analizzato I dati Avete detto Ma Visto che facciamo Gli episodi Da due ore Magari Di mettere le pillole Ha senso Allora Io tutto quello che faccio È copiare gli altri Quindi ho visto Che i podcast americani Ci avevano il canale Highlights Il canale Clips E io ho detto Facciamo il canale Highlights Poi l'ho fatto Tantissimo tempo fa Non l'ho coltivato Non ci ho fatto niente Perché il mio rapporto Dalla tecnologia È un rapporto Di odio puro È genuino È giusto Cioè Ho ragione io Nella tecnologia È giusta Di base a noi ci odi Che facciamo Sì no Infatti io Sono qua dicendo Io vengo a Pormi come antagonista Che è proprio Del concetto La nemesi Perché la tecnologia Ha un'anima Proprio malvagia E che sottovalutiamo Molto Però Tranne Tranne NordVPN Anche Tu Non mi far Dire cose Che non posso dire Però Tutta la tecnologia Ha un'anima malvagia Che noi sottovalutiamo O comunque Noi Cioè Quando usiamo La tecnologia Togliamo qualcosa A noi stessi Che noi questo Non lo accettiamo Non lo accettiamo E pensiamo Ci faccio solo bene Infatti la tecnologia È infame Cioè Adesso questo Funzionerà benissimo Però se lo stessi usando io Non funzionerebbe E tu mi diresti Ma guarda Daniele È facilissimo Basta che premi così Così e così E mi fa vedere come funziona Poi io premo così e così E così E non funziona Te ne fai Non capisco come è possibile E perché la tecnologia È così È fatta così Cioè Dovrebbe essere Che se premi un pulsante Succede una cosa Ma questa cosa Non si verifica sempre Questo al momento Guarda quanto è grosso il tasto Eh lo so Ma è proprio quello Che tu premi il tasto E il tasto non diventa rosso È un giorno Quando viene Capito Il giorno Il giorno che viene Fedez Posso andare a casa Il giorno che viene Fedez Quello non ti funziona Capito Quando ti viene Mattarella No tu Alla fine Quello non avrai registrato Ci avrai il fruscio sotto Facciamo due foto E via Vabbè comunque Quindi Ok Hai preso spunto Ho copiato gli americani E poi adesso Che ci stanno I tecnici Dei professionisti Che si occupano Di spillolare Quindi l'hai aperto proprio tu L'ho aperto io Sì sì Ma da tanto che c'è Eh da un po' Dal covid Secondo me Forse anche da prima Del covid Ma perché non Eh questo è il mio dubbio In realtà Amletico Perché Vedere tintoria highlights Mi ha detto Perché questa roba Perché io pensavo Di fare Un altro che l'ho visto fare Montemagno Ok Di prendere le pillole Gli estratti Sempre 16 noni E buttarli sempre All'interno dello stesso canale Non su un altro canale Perché Si può fare anche quello Però secondo me Ripeto Il mio La mia analisi dei dati È stata solo Ah vedi Your mom's house C'ha il canale clip Ah vedi Flagrant C'ha le clip Ah vedi Girogan C'ha il canale a parte Con le clip Facciamo il canale con le clip C'è un canale in più Su youtube Che ti arriva a 10.000 iscritti C'è un canale youtube Con 10.000 iscritti Di meno E poi secondo me È un contenuto Che ci sta Cioè ci stanno Delle clip Di 18 minuti Che le persone Magari diventa Virale quella Cioè c'è una clip Di una bazelletta di Valerio Quindi poi le persone Finiscono su quel canale Qualcuno si iscrive Qualcuno no Però non importa Tanto i contenuti Sono gli stessi A noi non ci cambia niente Non credo Tolga visualizzazioni Al canale originale Interessante Perché magari Se vedi Quella parte saliente Del podcast Amari ti spinge poi A vederti Secondo me Succede più quello Che non il contrario Che diciamo E se ho visto Staparte E comunque Mi va bene Pure quello Noi essendo poi Ovviamente un canale Estremamente più piccolo Ha anche senso Perché magari Il nostro pubblico È meno ingaggiato Rispetto a voi E che ne so Se adesso Nell'ultima parte Dell'episodio Ci sta una cosa Fichissima Amari il 5 Il 10% Non so il vostro rate Però comunque Sì è veramente più basso Dei primi 10 minuti Sì no certo A fine episodio Se bravani succede Quella cosa Super carina Interessante Alla fine Se la estrai La butti come il contenuto La vedono persone Che probabilmente Non l'avrebbero mai vista In nessun modo A me piacciono I contenuti lunghi E poi Uno deve sempre copiare Le persone che fanno le cose Cioè se qualcuno fa le cose Gli riescono Se tu vuoi fare la stessa cosa Guarda Chi lo fa bene Rogan faceva tre puntate Da due ore e mezza Al giorno Un periodo Cioè Va bene così Poi fai scegliere al pubblico Magari si vede 20 minuti Una puntata E una settimana dopo Si vede 20 minuti Un'altra Va benissimo Non è che tutti Si devono vedere Tutto quanto Secondo me Conta tanto la fruizione Cioè perché per dirti Io sono uno Che i podcast Se li vede Più su youtube In tv Proprio sul divano Si Quindi Magari un episodio Di due ore Su youtube Cioè nel senso Magari mi vedo Shining Veramente Però invece Magari se sei uno Che ascolta in macchina E sta tanto in macchina L'episodio di due ore Anzi mezza svolta Così non devi scegliere Cambiare Eccetera Ti fai il viaggio Due ore Si Te lo vai a filare Vai filato Noi di solito Tagliamo solo Se l'ospite Ci chiede di tagliare qualcosa E dice Magari sta cosa Non mi andava di dirla Se non ho sbagliato Se no per il resto Teniamo tutto Teniamo pure Quando io vado in bagno Cioè nel senso I momenti morti Alla fine Li teniamo tutti quanti Che forse Quelli si potrebbero pure Accorciare un po' Un po' Però secondo me Eppure la cifra del podcast Tenere tutto quanto Cioè proprio Ti imbarchi In questo Journey Insieme a noi Anche avendoci il pubblico È quasi più uno spettacolo Teatrale Infatti è un po' Un podcast Cioè un po' Un anti podcast Perché poi Soprattutto Adesso stiamo facendo Le considerazioni tecniche Sull'audio Cioè a noi ci piace Avere il microfono Il gelato Col cavo È però chiaramente Non c'è la qualità audio Che c'è la qualità audio Che ci avresti in uno studio Con altri microfoni Quindi stiamo cercando Di capire Come poi Registrare l'audio A un livello Ancora più alto Di quello A cui registriamo adesso Che va bene Va benissimo Però proprio tu senti La registrazione Di un live Alle persone piace un sacco Noi siamo contentissimi Che piaccia A noi ci piace un sacco Farlo così Però forse Secondo me anche qua Cambia la frizione Per dirti Noi Con i microfoni vecchi Che la maggior parte Del pubblico nostro Non l'abbiamo sempre Spinto solo su YouTube E su YouTube Te comunque Sei distratto Dalle immagini Quindi non ti concentri Solo sull'audio Invece se Se punti tanto a Spotify Averci l'audio pulito Ottimizzato bene Di qualità È un'altra roba Perché Cioè È solo quello Che analizzi Capito È vero Per arrivare a un argomento Che ci sta tanto a cuore Eccolo Per collegarmi A quello che state dicendo Gli episodi di Tintoria Scorrono molto bene Quindi abbiamo detto Ma Scrivete Gli episodi C'è uno scripting Preliminare Di argomenti Fate una ricerca Approfondita Dell'ospite Prima O Vi lasciate spazio All'improvvisazione Lì sul momento Allora Direi tutte e due Nel senso che noi Prima della puntata Ci guardiamo E leggiamo Tutte le interviste Dell'ultimo paio D'anni Che è uscito Dell'ospite Per vedere Se c'è una domanda Ricorrente Che ha senso Non senso rifare Per non Per non creare Proprio sovrapposizioni Quindi di base Vuol dire Che tu considera Qualsiasi ospite Tu possa chiamare In Italia Comunque ha già fatto Moccia Proprio questo È una legge Perché poi lui fa le cose Da remoto Quindi da remoto È pure più facile Cioè Chiami Inviti l'ospite Ci fai una colla Tu puoi stare Dell'apero No? Sì Noi siamo andati là Perché io stavo andando A fare uno spettacolo a Brescia Stefano è salito Poi era all'interno Una maratona Che faceva lui Siamo solo ospiti Che comunque ci interessano E ci prepariamo Delle domande Che magari Di solito Possono pure essere Un po' Diciamo banali Nel senso La domanda Come è iniziato È una domanda Abbastanza scontata Però a me Stefano Ci interessa sempre Perché comunque Nel mondo Abbiamo quasi sempre ospiti Del mondo Nell'intrattenimento Dello show business E non esiste Un percorso lineare Quindi per ognuno Inizia in modo diverso Quindi comunque Per noi è interessante E questo fa anche Un po' sciogliere l'ospite Perché parte Con una risposta Tranquilla Diciamo Con un argomento tranquillo E poi una volta Che si è sciolto Perché comunque Si deve sciogliere Sali su un palco Cioè tutto il pubblico davanti I due che ti fanno le domande Non è scontato Che proprio parti A disposizione E invece una volta Che si è sciolto Poi lasciamo pure spazio All'improvisazione Vediamo dove ci porta Dove ci porta l'ospite Se dice qualcosa Che ci interessa Ci fermiamo Parliamo di quello Sì anche perché Poi Rapone È completamente Cioè a volte si deve Che freestyle Sì 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 Stefano si appoggia molto A quello che dice l'ospite Però prima comunque Ci prepariamo Cioè noi sappiamo Se l'ospite arriva a un punto Noi sappiamo poi Dove andare E ti volevamo chiedere In realtà L'abbiamo già capito Ma facciamo finta Che te lo richiediamo Ma andiamo subito Se ti facevi aiutare Da queste intelligenze artificiali Perché adesso ChatGPT potrebbe essere Veramente un'arma A favore di tutti Gli scrittori Autori Eccetera eccetera Immagino che tu Non lo faccia No Però un amico Mi ha suggerito Di fare una cosa Che magari Prima o poi Faremo Cioè di fare Una puntata Con ChatGPT Ospite Io e Stefano Che faccio una domanda ChatGPT Che quindi potrebbe essere Una roba Che è copiata da noi Perché adesso Sì Ah vabbè L'abbiamo appena fatto Allora No 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 Sarà dopo Lo capirai Ah ok Vabbè comunque No ma non sarà Comunque copiata Perché dovremmo iniziare Una nuova puntata Da zero Però Il punto qual è che Noi Usiamo molto In realtà ChatGPT Non soltanto per Il podcast E come fate adesso Che l'hanno bloccato In Italia Usiamo un altro tool Sai quale Sai quale No ovviamente Sì VPN Ma io penso Che durerà molto poco Questa cosa Anche se i tempi italiani Saranno lenti Ma noi sicuramente Una VPN ce la facciamo Non ho capito Perché noi abbiamo il plus Ma pare che tutti Gli italiani Che avevano il plus Verranno rimborsati E quindi questo Mi lascia pensare Che se vengo rimborsato Non lo posso più fare All'iscrizione Tu hai scritto Che eri un utente italiano Ma se ho fatto Il login con Google Lo sanno proprio Lo strasanno Che siamo italiani Sanno proprio L'indirizzo Sono qui adesso Stanno sentendo Già la puntata Ma sì Google sa anche Tipo Non ne so Il gaberit Di che colore È a casa Che cos'è invece Il gaberit Lo sciacquone Ah ok Questo non lo sapete Scusate Sembra una cosa Più sofisticata Il gaberit Ho detto Questa è una cosa Stratecnologica Lo sciacquone Lo sciacquone Lo sciacquone Quindi Che cosa stavo dicendo Devi andare al dunque Eh no Mi sono andato Chat GPT Abbiamo fatto NordVPN Ok Sì no Perché noi lo stiamo utilizzando Molto per lavoro Come assistente Perché molti pensano Eh adesso Perdiamo il lavoro In realtà Almeno al momento È un assistente Molto potente E qual è la soluzione Migliore per Per utilizzarlo Soprattutto in ambito Podcast Come ti potrebbe Servire a te Ovvero di dargli Un prompt Prompt vuol dire Diciamo La richiesta Che gli fa Il testo Che digili L'input E invece di Fargli subito La domanda O comunque Chiedergli di risolvere Il tuo problema Perché Essendo un assistente È molto brava A risolvere i problemi La La fase precedente Sarebbe meglio Che gli venga Detto un po' Il contesto Ok Quindi Se te dovessi scrivere Dovessi farti aiutare Per scrivere Delle domande Per un ospite Dovresti dire Immaginati che Tu sia Daniele Tinti Un comico Romano Che ha un podcast Eccetera Eccetera Devo ospitare Questa persona Che magari Ha questi tratti Eccetera Essendo un'intelligenza Non un robot E quindi Impara Perché appunto È intelligente E quindi si mette Un po' In quel contesto E dopo che Essendo poi È una chat Si chiama chat GPT Quindi è una conversazione Quindi il flusso È non Tipo Google Faccio una domanda Poi ricomincio Altra domanda E poi Mi risponde Google Là è proprio Una conversazione Quindi una volta Che lui ti dice Ok adesso sono questo Lui da quel momento In poi Su quella chat Lì Perché poi Avete infinite chat Su quella chat Lì Tiene in considerazione Tutto quello Che gli ha detto Prima Ok E quindi Il flusso È ottimizzabile Quindi se tu Per un anno Porti avanti Sta conversazione In cui La chat È Daniele Tinti Podcast È romano Dopo un anno È proprio Molto 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 Vicino a Daniele Tinti Esatto Perché poi Continua A imparare Da quello Che dici tu Ma continua A imparare Anche dal Database Che viene aumentato Da OpenAI In questo caso E anche da altri utenti Esatto Anche altri utenti In quel momento Stanno parlando Di Daniele Tinti Lui comunque Fa fede anche Agli altri utenti Esatto Perché comunque Quindi dicevamo La cosa migliore Appunto È fare questo E poi Chiedergli degli input Quindi Perché Appunto Secondo noi In questa fase Della tecnologia Non è Non può essere Il sostituto completo Ma lì Dell'autore del podcast Ma potrebbe essere Sicuramente Un assistente Appunto Che ti dà Degli spunti Per migliorare Cioè Per farti venire Delle idee E quindi Proprio per questo Abbiamo pensato In questo format Che si chiama Sei abbastanza prompt L'intelligenza artificiale Per i prossimi Cinque minuti Sarai tu Quindi ti daremo Dei prompt Ok E te Dovrai risolvere Un problema Non ti diamo Nessun altro spoiler Lo sapevo Che mi fregavate Parto io con la prima Vai 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 Allora Il primo prompt È questo Sì Cioè Calcola sicuro Non ho manco capito Che devo Vai 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 Vabbè È super chiaro È super chiaro È super chiaro È chiaro Vai 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 Sei un cassa mortaro Sì E hai appena sfruttato Un'offerta su Alibaba Express Per l'acquisto di 2000 bare La mattina dopo ti svegli Ma la morte non esiste più Come fai ad evitare il default dell'azienda Cioè come eviti il fallimento totale della tua azienda La morte non esiste più La morte non esiste più Devi inventarti un nuovo business Quindi sul groppone Quindi sul groppone 2000 bare 2000 bare Adesso che ci fai Secondo me molto facile Perché le bare in legno Sono già spontaneamente Tre quarti di una serra Dentro cui puoi mettere tutta terra E piantare tutte piante In verticale Ma la devi vendere sta roba? Cioè te la senti di vendere? No certo Perché tu dici Te come la vuoi La cosa per fare L'idroponica Oppure comunque Cioè i tuboni li vuoi Quindi ci fai le canne Cioè alla fine le canne Le canne le hai detto tu Adesso idroponica Lui adesso idroponica Esatto Con questi contenuti in legno Dentro cui fai queste serre sospese Adesso qua bellissimo Se ci avevate Una gigantesca serra sospesa Con tutte le piante che scendevano in legno Finché legno, terra e radice Non diventavano la stessa cosa E le provavi a piazzare in questo modo qua Quindi ti butteresti sull'ambito green Ambito green Ambito green Ok che compassante Passiamo alla seconda Passiamo alla seconda Vai sempre Micheluzzo Vado io sempre Allora stavolta sei una casalinga E per puro caso Scopri che il mondo finirà tra un anno È un'informazione preziosa Ma purtroppo non puoi dirlo a nessuno Altrimenti finirà il giorno stesso La tua unica possibilità è dirlo Attraverso uno spettacolo su Netflix A tema culinario Allora fai uno spettacolo culinario su Netflix Quindi tu già hai un contratto con Netflix Comunque sia Non è che devi pure fare la carriera Da casalinga ad artista di Netflix Perché sei una casalinga già affermatissima Sì sì Loro sono pronti Quando vuoi giriamo Tu fai questo programma culinario E a un certo punto va male Cioè qualcosa va storto E qualcuno deve morire Cioè devi creare scalpore intorno a questo programma culinario E la motivazione per cui la persona che ha il giudice importantissimo È morto Barbieri Perché ha mangiato una cosa Gli altri sono vivi Solo Bruno Barbieri è morto Perché è morto? E tu devi creare una serie di indizi, di tracce che partono dalla morte Adesso salutiamo Bruno Barbieri O uno dei giudici di Massachusetts Perché è morto solo lui e gli altri? Da questa morte, da questa analisi Deve partire una serie di briciole Che guideranno lungo il sentiero Che porterà gli investigatori a capire che il mondo sta finendo Adesso questo L'investigatore ha detto Quindi il tuo pubblico sono dei investigatori No però muore veramente Cioè tu stai facendo lo show su Netflix culinario E qualcuno muore davvero Quindi poi parte, scatta un'indagine Perché dicono come mai è morto solo uno dei giudici Non avevo capito che era davvero No no muore, proprio muore Non è nello show Muore un cristiano Comunque è uno Cioè ci sta Sì sì Lo metti a produzione Esatto E tu sei distrutta Comunque c'è pure 2000 bare sul gruppone Esatto Tu sei distrutta che devi far morire una persona Però per il greater good Fai morire Adesso ho detto Barbieri Può essere qualsiasi giudice Ve la giocate a fare dispari Qual è quello che muore E devi fare in modo di creare Un sentiero che da quella morte E dallo scandalo che genera quella morte Vista ad uno show di Netflix Porti il mondo a indagare A vedere Ah ecco Il mondo sta per finire Però se non ho più dettagli Non riesco ad arrivare a 12 episodi No esatto Però c'è pure da dire che Quindi hai scelto comunque di dirlo Perché l'alternativa Hai scelto di farlo scoprire alle persone Esatto Non per forza Quindi questo è già Oppure c'ho anche l'altra cosa Cioè la chiave potrebbe essere anche che Oh sti cazzi Tengo con me Faccio il panico Tanto finisce Oppure l'altra cosa che puoi fare Ci pensi un po' Fai le tue cose Ti togli un po' di sfizi E poi allo show su Netflix Lo dici E il giorno dopo muoiono tutti Dicevo comunque Il mondo sarebbe finito tra un anno Invece mo ve l'ho detto Finisce domani E spegni tu la luce Capito? Che non è male Senti andiamo col terzo Prontone E ultimo E stavolta Ritorni nei tuoi panni Quindi sei Daniele Tinti Va bene Però stavolta ti ritrovi nel 2042 2042 va bene Ok L'intelligenza artificiale È l'unica istituzione comica Legittima Sì Gli unici spettacoli comici Concessi all'uomo Possono esclusivamente trattare Di Orti comunali Rapine E Rapone Come ti comporti? Scrivo un bellissimo Spettacolo Tutto un roast Contro Stefano Rapone Ok Che a quel punto Sarà morto da 40 anni Beh sì Secondo i miei calcoli 40 anni qui Perché è morto 10 anni fa Sì A questo non lo dovevo dire Però Stefano in realtà È già stato sostituito Da un sosia È un'intelligenza artificiale Tempo Tempo addietro Farei un bellissimo monologo Su Stefano Rapone Esilarante Tutto contro Tutto contro La rapina? La rapina non mi interessa Perché la rapina O il rapone La rapina mi sa di diminutivo Io voglio Capito? Punto al sole Un sacco di soldi Un sacco di crediti Continueresti a fare il comico? Non ho piani B Purtroppo non ho nessun piano B Se ti dicessero Guarda Non lo puoi più fare Guarda È successo durante il covid Che per un anno Non ho potuto lavorare E ho vissuto Con i soldi dell'Inps Quindi spero che in caso Se mi dicano Non puoi più fare il comico Spero che la previdenza sociale Continui Elon Musk Non so se lo sai Ma lui richiede proprio questo Perché per il futuro Vorrebbe un reddito mondiale Universale C'è anche un candidato Dei democratici Che è un candidato minore Che dice che per l'America Servirebbe il reddito universale Perché i lavori Stanno sparendo Elon Musk È uno dei colpevoli L'altro ieri Lui ha detto di interrompere Lo sviluppo dell'intelligenza artificiale Per ridurre Diciamo la tempistica Che questa A me Mi pare che Elon Musk Capito Ha visto gli altri Che hanno il giocattolino migliore Del suo Ha detto No riducite In realtà GPT Era il suo Era il suo Era il suo Lui ha fondato E adesso è uscito Perché ha rosicato Del fatto che Microsoft Perché si chiama OpenAI Sì Perché lui voleva Che questa tecnologia Fosse aperta E quindi non controllata Da qualche Big brand E invece Hanno venduto A 10 miliardi Non so che fetta Però Una grossa fetta A Microsoft E lui non l'ha presa E lui ha rosicato Va bene Io però purtroppo Questa cosa di Elon Musk Paladino della libertà Non me la collo Purtroppo No perché comunque Cioè in generale Se sei miliardario Io comunque non mi fido di te Cioè io ci credo pure Che tu sei Sei più matto Però comunque non mi fido E quindi Senti Ero quindi Torniamo ai prompt Quale vorresti Sentire Voglio sapere la casalinga È bella Sì Parto con il titolo dello show A tavola con il tempo Un anno di ricette Per salvare il mondo È una roba Vado col concept Vai vai Lo spettacolo presenta Una serie di 12 episodi Uno per ogni mese dell'anno In ogni episodio Preparo ricette a tema Usando gli ingredienti simbolici E condividendo storie Ed esperienze Che offrono spunti di riflessione Sul valore del tempo L'importanza di prendersi cura Del caneta e della comunità E l'urgenza di agire Per cambiare il modo di vivere Mazzà È bella Non male Posso dire Sì Non è che poi proprio Le persone capiscono Alla fine di questa cosa Che il mondo sta per finire Cara signora chat Chat GPT Però c'è da dire pure una cosa Che te magari Ti tieni la bomba Per il decimo episodio Come fanno tutti Eh no è chiaro Intanto c'è tempo Di scriverlo Allora Come faccio A dirlo Senza non dirlo Con che piatto diresti Con che piatto diresti Ma come fai a dire Che il mondo sta finendo Qualcosa buonissima Dici Oh sto piatta La fine del mondo Allora io direi Che stiamo verso la chiusura Abbiamo un altro Un altro format Che secondo Diciamo Software di intelligenza Artificiale Più famoso Che è Midjourney Non lo conosco È quello che Con cui hanno creato La foto del papa Quello che ruberà Il lavoro agli illustratori Esatto L'abbiamo messo Alla prova Con un altro prompt Però dandogli una foto A differenza Di chat GPT Che è soltanto testo Qua gli puoi dare Dei link In cui Ci sono delle foto Principalmente Perché Midjourney È fotografico Grafico Gli abbiamo dato due foto E lui ne ha creata una Con queste due foto E tu mi fai vedere l'una E io devo capire Quali erano le due È come se fosse Il figlio di questi due personaggi Poi io non c'ho sto problema Ti dico Una è facile L'altra è difficile C'ho sto problema Che io non conosco Nessun personaggio Però questo L'hai ospitato a Tintoria Ah sì L'ho ospitato a Tintoria L'uomo È un uomo Una donna Dai Diciamo Lavora molto con Sky E anche con Amazon Lavora molto con Sky È Lillo No Chi è che lavora Io non conosco nessuno Cioè Chi è lei Dimmi chi è lei È italo-americano Lui è È Frank Matano Ok Matano e lei è Eh se non hai indovinato lui Credo che lei Sia impossibile Dimmi che fa Una showgirl Showgirl Anziana Una showgirl Anziana Non so Ma è italiana Old showgirl Viva Sì 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 Non so chi Sandra Milo Guarda Sandra Milo Io manco so chi è Questo è più facile Vai Che in realtà Secondo me ha creato Un ibrido Che assomiglia Alla terza persona Ancora Ok Questi sono italiani Ma questo è giordano No Però Sembra Quella è la terza persona Che diceva Allora Facilissimo Dania Cioè se non riesce a questa Gli altri nemmeno te le facciamo vedere Non hai capito Non so chi sono queste persone Questa dallo sfondo Se lo potresti capire addirittura Guarda io questo è uno sfondo Che ti giuro Non l'ho mai visto in vita mia Ma non è possibile Mi pare È impossibile Mi pare Una cosa De Akatsuki De Naruto Lo sfondo Quindi ti giuro No Credo che sia impossibile Che tu non lo riconosci Sul bestiario Allora Lundini Perché così Se deve essere Lundini E lei chi è Ilari Blas È Lorella Cuccarini Lorella Cuccarini Non so chi sia Ma come è possibile Io non ho mai visto la televisione in vita mia Quindi non conosco nessuno Sono mortificato ragazzi Cioè se mi fai vedere Lorella Cuccarini Io ti dico Non so chi è Questo non te lo faccio vedere Perché è impossibile Lorella se vuoi venire ospite del podcast Sei la regina Questo secondo me Ci può arrivare Sì Allora Luca Ravenna Subito Guarda anche la posizione Secondo è difficile però È difficile ma Non impossibile Achille Lauro No È una donna No Platinette No No Ti arrendi Sì mi arrendo subito Cristiano Malgioglio Cristiano Malgioglio Un amico Un amico Lui so chi è Se vedo la foto So chi è Ok Ma te quindi che ne pensi Di questo mondo Cioè Qualora perché L'intelligenza artificiale Allora io Cioè nel senso La utilizzerai mai O dici proprio Io penso che tra 15 anni Non esisterà Cioè il 100% dei contenuti Saranno tutti fatte L'intelligenza artificiale I film li scriveranno L'intelligenza artificiale I podcast Li faranno l'intelligenza artificiale I videogiochi La chirurgia La farà tutta La faranno tutta le macchine I mezzi Verranno guidati dalle macchine Quindi Effettivamente Avremo un po' Un problema Di Cosa far fare Agli esseri umani E quindi A noi ci rimarrà Solo incontrarci Cioè nel senso Le cose dal vivo Di persona Proprio tra di noi Saranno L'unica cosa che rimane Questo però un po' Me lo racconto Perché io faccio spettacoli Dal vivo E quindi mi piace pensare Che quella roba là Quello oppure un concerto Dal vivo Sarà Sarà bello Però in realtà Poi se ti vai a vedere Un comico Con un monologo Scritto da un'intelligenza artificiale Che ti fa vedere Un ologramma Ha fatto È uguale Cioè stessa esperienza Tupac Alcoacella È stato incredibile E l'hanno fatto Otto anni fa Tra 15 anni Vedi un ologramma Di Louis C.K. Che ti fa un monologo Che manca scritto lui Pensi che è bellissimo Quindi Questo è il futuro Che voi volete Tra l'altro Voi in questo podcast Voi non vedete l'ora Voi lavorate attivamente Io invece che mi pongo Come nemico Della tecnologia Quando la tecnologia Vincerà Non posso che pormi Come suddito Obediente Purtroppo Però questo 15 anni 15 anni E così Posso farvi una domanda stupida Allora Proprio dal giorno zero In cui è stata creata La tecnologia Tutti quanti Tutti hanno cominciato a dire E poi a un certo punto Le macchine Prenderanno il controllo Perché diventeranno Troppo più E tutti a dire No non succederà Però ci facciamo i film La letteratura I videogiochi Pensiamo a questo Scriviamo i libri A fine ottocento Dicevano un giorno Le macchine Faranno tutto quanto E noi dritti Cioè senza esitare un secondo Siamo andati Per più di un secolo E continuiamo ad andare Anche adesso In quella dire Cioè comunque Terminator L'hanno fatto tanti anni fa A noi non ce ne frega un cazzo Matrix Film preferito di tutti E noi dritti per dritti Verso Matrix Senza porci nessun problema Questo è il mondo Che ripeto Volete voi qui E qual è la domanda però No la domanda è Questo è il mondo Che volete voi Cioè nel senso È quello Cioè stiamo andando In quella direzione O no Ma guarda Io sono dell'idea Che in realtà Ogni nuova tecnologia È sempre Contrapposta dai scettici I scettici Esistono solo nel presente Nel futuro Non ci sono mai scettici Cioè tutte immagini Quando hanno inventato La macchina Dicevano Eh però Cioè i cavalli A te pare Purelli Cavalli Cioè tutti quelli C'hanno i maneggi Che facciamo Quelli vanno in mezzo Una strada Però poi alla fine Ti preoccupi Che qualcuno Non va a cavallo Adesso Qual è il punto Finché Non Riescono A riprodursi Da soli È tranquillo Eh ma Quanto ci mettono Cioè nel senso Quanto Cioè se gli dai Un braccio meccanico È fatta Al momento Però se te stacchi server Hai staccati server Capito Sì Però basta che ne fai una Piccolina E poi è finita Questa è come la vedo io Che tra 2035 È fatta Noi siamo qua Rinchiusi E dicevo Io me l'avevo detto Me l'avevo detto Ma fai podcast Da solo Sì E quindi Che dire Grazie a tutti Grazie Dani Grazie ragazzi Ci vediamo su Youtube Il piacere è stato mio Ciao 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 Grazie Ciao